ciao a tutti eccomi qua con un nuovo lavoro è un lavoro steampunk mix media steampunk io però lo chiamo un po romantic steampunk perché è un pochino più romantico no meno meno aggressivo forse la particolarità di questo progetto è la struttura del fondo ok e l'utilizzo della foglia oro quindi mi raccomando seguitemi passo passo che vi mostro come si fa ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti